Napster cambiò tutto. Voglio leggervi questo articolo che ho trovato sul post, articolo del primo giugno 2024 e se avete voglia di passare qualche minuto in compagnia del mio vocione, leggiamo insieme a questo lavoro qua, poi commento, vediamo un po' di cose che non ho ancora letto, quindi immagino che sarà interessante perché gli articoli del post di questo tipo sono sempre abbastanza carini, interessanti, purtroppo non sono firmati solitamente, però insomma, ecco, Napster per noi millennial e in generale per quelli che hanno attraversato quel momento di internet fu davvero qualcosa che cambiò, almeno la percezione di internet, di quello che si poteva fare, anche del libero accesso alla cultura, adesso la metto sul piano abbastanza idealistico, però Napster effettivamente per l'accesso alla musica fu un punto di svolta, di non ritorno, non torniamo più indietro alla vecchia modalità di fruizione musicale, quindi da lì ci fu solo un'evoluzione di quel modo di fruire la musica, che adesso praticamente stiamo utilizzando ancora, però pagando degli abbonamenti, insomma, vado un po' a leggere questo articolo, il programma di condivisione canzoni aperto 25 anni fa durò poco più di due anni, ma aprì la strada ai servizi di streaming che usiamo oggi, tra l'altro poco più di due anni durò Napster, mentre la mia percezione di Napster fu un tempo infinito, non so, probabilmente quando ero piccolo, ecco, due anni erano effettivamente un periodo molto lungo, adesso mi sembrano molto pochi, insomma, vado a leggere, fino alla primavera del 1999 le opzioni a disposizione di una persona che volesse ascoltare una singola specifica canzone non erano tantissime, poteva camminare fino al negozio di dischi più vicino e comprare il cd o la cassetta, la musicassetta, bellissimo, dell'intero album che la conteneva, sperare di abitare vicino a uno di quei rari negozi che le noleggiavano o che qualche amico ne avesse una da copiare, ma non era facilissimo. C'era chi registrava le canzoni quando passavano a radio, bellissimo, naturalmente qualcuno di voi più agé si ricorderà delle cassette con i pezzi registrati dalla radio, con anche l'intervento del DJ che si cercava di nascondere. Da qualche tempo, per chi aveva una connessione a internet, esisteva anche qualche metodo piuttosto macchinoso e limitato per scaricare musica in formato mp3, ma era comunque difficile trovare qualcosa di preciso. Senza dubbio, non c'erano le piattaforme di streaming a cui siamo abituati oggi, non c'era neanche lo streaming a dirla tutta, ma non c'erano nemmeno siti dove pagare per acquistare singole canzoni. Esatto, il primo negozio di musica digitale, Beat Music, che non ricordo, sarebbe stato aperto in Giappone nel dicembre di quell'anno, ma avrebbe inizialmente proposto un numero molto limitato di canzoni. È in questo contesto che il primo giugno del 1999, due ventenni statunitensi, lo studente universitario Sean Fanning e il programmatore Sean Parker aprirono un Appster. Sean Parker, peraltro, poi fu coinvolto anche nelle prime fasi di Facebook, vi ricorderete, c'era anche nel film The Social Network, penso che lo facesse Timberlake, Justin Timberlake faceva Sean Parker, mi pare. Quindi, insomma, poi continuò la sua carriera, tra l'altro sedete anche nel borde di Spotify, per un momento, prima che Spotify poi si quotasse in borsa, quindi, insomma, Sean Parker poi rimane nell'industria. Invece Sean Fanning non ho idea di cosa fare, andiamo a cercare. Sean Fanning, soprannominato Napster, è un informatico e imprenditore statunitense, famoso per aver sviluppato Napster, e poi, che ha fatto? Nel 2003 fondò la compagnia operante nelle multimedia Snowcap, poi nel 2006 sviluppò Rupture, poi ha creato Helium, un network wireless decentralizzato, che occupa all'interno di questa rete e riceve compenso sotto forma di token Helium. Va bene? Vabbè, non ha fatto niente, è sparito, non ha fatto niente. Allora, era un programma gratuito, piuttosto rapido e facile da usare, che permetteva a chiunque avesse una connessione a internet di mettere a disposizione degli altri utenti il controllo dei propri hard disk. Oggi non il controllo proprio completo. Vabbè, comunque, il procedimento che sarebbe poi stato meglio conosciuto come peer-to-peer. Esatto. Ci si basano ancora molti siti, come The Pirate Bay, che permettono di scaricare gratuitamente, ma illegalmente, attenzione, ma illegalmente, film, serie tv, ebook, album, e che hanno spesso molti problemi con la giustizia. Ma no? Non ve lo sareste mai aspettato. L'impatto sociale e culturale di Napster fu immediato. Il programma si diffusse inizialmente nei campus universitari statunitensi, che avevano da poco cominciato a mettere a disposizione degli utenti connessioni a internet affidabili e gratuite. Secondo alcune stime, nell'arco di un anno, un quarto di tutta la banda di rete nelle università americane veniva autorizzata per condividere musica su Napster. È abbastanza incredibile. Nell'ottobre del 1999 lo usavano già 150.000 persone. Al suo apice, nel 2001, si stima che gli utenti fossero 80 milioni. Che, insomma, tra l'altro per l'internet dell'epoca erano assolutamente numeri incredibili. Sean Fanning finì addirittura sulla copertina di Time Magazine. Andiamo subito a vederla. Eccolo qua. What's next for Napster? Eccolo qua. Sean Fanning, 19 anni. 19 anni. Quindi copertina di Time, normalmente dedicata a personaggi di grande rilievo pubblico. E lui, ovviamente lo era. Ma non fu nemmeno esclusivamente statunitense. Nell'introduzione del suo libro Playlist. La musica è cambiata, uscito nel 2006. Luca Sofri, direttore del post. Beh, questa è una marchettina a Luca Sofri, va bene. Spiegò che nella redazione in cui lavorava all'epoca, la scoperta di Napster portò a un calo repentino della produttività. Una ubriacatura generale inarrestabile, dice Luca Sofri. Eravamo in otto in un open space e ognuno faceva gara sulla sua scrivania a scaricare e a far ascoltare agli altri le cose più strane e tirate fuori dal cappello. Scarichavamo come saccheggiatori di New Orleans, sfinendo le reti aziendali. E non era solo bieco accumulo di merci a lungo sognate. Grazie alle recensioni che potevo leggere in rete, avevo accesso all'ascolto di dieci volte le band che conoscevo fino ad allora. Esatto, anche un grande strumento per la condivisione culturale di band che altrimenti non avresti scoperto, insomma, non avresti conosciuto. Un'eccitazione infantile e gioiosa, continua il direttore del post, si impateronì degli appassionati di musica di tutto il mondo, troppo straordinaria e inattesa per poter far loro percepire qualcosa di immorale in tutto questo. Da una parte Napster aiutò tantissime band a raggiungere un vasto pubblico che prima non le conosceva, naturalmente, ma anche tra i famosi ci fu chi lo apprezzò. Il cantante dei Radiohead, Tom York, difese il fatto che il loro album Kid A fosse apparso su Napster un mese prima della sua uscita in formato fisico, dicendo che incoraggia l'entusiasmo per la musica in un modo che l'industria musicale ha da tempo dimenticato come fare. Il cantautore e DJ Moby si disse molto lusingato del fatto che le persone si scambiassero la sua musica online e artisti come il Limp Bizkit e Courtney Love si schierarono a favore del software. Molti nell'industria musicale però la vedevano in modo diverso. Ovviamente, gran parte dei loro profitti in quel momento proveniva dalla vendita di album su CD, ma su Napster gli stessi album venivano pubblicati gratuitamente e spesso anche con settimane di anticipo. Successa al rapper Dr. Dre come a Madonna. Pochi mesi dopo l'apertura, il 6 dicembre 1999, arrivò la prima causa contro Napster, intentata dalla Recording Association of America, l'associazione di categoria dell'industria discografica statunitense, per violazione dei diritti d'autore. Alcuni musicisti diventarono i volti della battaglia del settore contro Napster. Il più memorabile fu il batterista Lars Ulrich della band Metal Metallica, che portò personalmente alla sede dell'azienda 13 scatole di fogli su cui aveva stampato i dati di centinaia di migliaia di utenti che avevano condiviso e scaricato illegalmente la musica del suo gruppo. Quindi i Metallica e Lars Ulrich in particolare, amici delle guardie. Non sto scherzando. Napster fece vari tentativi di sopravvivere e trovare un modo legale di continuare il proprio servizio, oppure un accordo con l'industria discografica. Nessuno di questi funzionò. A posteriori, varie persone che ci avevano lavorato raccontarono raccontarono che la gestione dell'azienda era molto caotica e che i fondatori litigavano spesso tra loro su ciò che speravano Napster diventasse. Dopo vari tentativi di appello, il 5 marzo del 2001, una corte ordinò a Napster di impedire lo scambio di materiali protetti da copyright attraverso il proprio software. L'azienda provò a spiegare di aver sviluppato una tecnologia che avrebbe permesso di bloccare il 99% dei materiali coperti da copyright una volta identificati, ma la corte rispose che non era sufficiente. Nel suo saggio Cultura Libera, Lawrence Lessig, uno dei più noti giuristi favorevoli alla riduzione delle restrizioni legali legate al diritto d'autore, la definì una guerra alle tecnologie di condivisione dei file, non alla violazione del copyright. È molto interessante in questo. Fu uno dei primi grandi casi in cui le corte americane furono chiamate a decidere se il concetto di copyright, inventato nel XVII secolo, si dovesse applicare anche al web. Napster chiuse l'11 luglio 2001, dopo poco più di due anni di vita, e pagò ai titolari dei diritti d'autore un risarcimento di 26 milioni di dollari per uso non autorizzato di musica portata da copyright. Riaprì un anno dopo come servizio legale e suo abbonamento. A quel punto però l'attenzione si era spostata altrove. Erano nati altri siti pirata, più che siti direi app, come LimeWire, ma anche servizi a pagamento come iTunes di Apple, che permetteva di acquistare singole canzoni. Ed erano stati messi in vendita gli iPod, lettori mp3 portatili che contenevano fino a mille canzoni. Naturalmente anche iTunes di Apple deve molto nel suo concetto a Napster. Oggi tecnicamente Napster esiste ancora, anche se ha cambiato proprietari varie volte, e offre un prodotto molto diverso da quello inventato nel 1999. Al momento fornisce musica on demand con un abbonamento mensile. Vorrei vedere chi utilizza oggi Napster per ascoltare musica. Nonostante la breve durata del progetto nella sua forma originale, molti riconoscono Napster come il precursore di molte tendenze che avrebbero interessato il web negli anni successivi. Daniel Heck, il fondatore di Spotify, ha detto di essersi ispirato fortemente a Napster nel lavorare alla piattaforma. Ovviamente, mi sembra anche scontato nel guardare come è strutturato Spotify, anche se ci sarebbe da dire sulle modalità che Spotify ha per spingere alcuni artisti, ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ispirato nella fruizione lato utente al modo in cui Napster consentiva di fruire della musica. Comunque, riprendo. Daniel Heck, il fondatore di Spotify, dice di essersi ispirato a Napster e finì per assumere Sean Parker come parte del proprio team. In questo caso, però, le etichette discografiche nel tentativo disperato di evitare di commettere gli stessi errori investirono presto in Spotify per assicurarsi di controllare il futuro dello streaming. L'ha scritto il giornalista August Brown. Ora, continua il giornalista, solo le superstar come Ulrich, appunto il batterista di Metallica, possono guadagnare con lo streaming. Gli artisti indipendenti, a cui Napster nel 1999 faceva bene, ora si trovano invece fuori dagli uffici di Spotify a protestare. Infatti adesso io non sono un grande conoscitore della storia del mercato discografico o delle band, anzi per niente, però ricordo perfettamente che in quegli anni lì, anzi subito negli anni successivi, vennero fuori un sacco di band nuove, definite indie, nacque l'indie rock qualche anno dopo, vennero fuori un sacco di band che nessuno conosceva o avrebbe conosciuto attraverso i normali canali di distribuzione, che con Napster e poi i servizi che vennero subito dopo, sempre di condivisione gratuita, invece ebbero la propria popolarità. Quindi effettivamente gli artisti indipendenti, grazie a quell'approccio, a quella condivisione libera, poi poterono avere un loro pubblico che gli permise quindi di andare avanti con i concerti e con la vendita di CD e di altro materiale. Invece oggi che il mercato è totalmente cambiato, le piattaforme come Spotify fanno un sacco di soldi con la musica, ma gli artisti più piccolini guadagnano pochissimo, quasi niente, proprio dal loro lavoro che Spotify sfrutta. Ad anni di distanza Napster è ancora un esempio e un'ispirazione nella Silicon Valley, ha scritto Joseph Mann, autore di un libro sulla storia di Napster, e dice Uber e Airbnb hanno adottato lo stesso approccio, ignorare le normative sui taxi e sugli hotel per dare alle persone qualcosa che desiderano, crescendo così tanto da portare alla fine i politici dalla propria parte. Napster ha creato tutta un'ondata di imprenditori anti-eroi. Adesso va bene, forse è un po' eccessivo questo, però effettivamente si parlava, non so se si usa ancora questo termine di sharing economy, ricordate questa roba della sharing economy, quindi un'economia basata sulla condivisione, la condivisione dei file da una parte, parte del proprio hard disk, della propria rete, del proprio network, condivisione di file, comunque per condividere cultura, che se ne dica, insomma, musica, ma anche libri, fumetti, ma software, distribuzioni Linux si scaricavano così, con peer-to-peer, oltre a vari software open source, non è soltanto la musica scaricata illegalmente, no? C'è tutta una scena di condivisione che favorì un certo tipo di modo anche di intendere la distribuzione del software, insomma, anch'io metto un filo di filosofia in questo. Insomma, la cultura della condivisione fu, secondo me, grandemente influenzata e premiata da Napster, e adesso la vediamo in tutt'altro modo, proprio perché ci fu Napster che aprì la strada. Basta, questo era l'articolo, insomma, se volete rileggervelo o leggervelo meglio, insomma, lo trovate sul post, vi lascerò naturalmente il link nella descrizione, si intitola Napster Cambio Tutto, e purtroppo, come sempre, non sappiamo chi è l'autore, ma ti ringrazio perché mi hai riportato al 2000, quando effettivamente Napster sembrava una cosa meravigliosa, che oggi forse abbiamo un po' perso.